Ho conosciuto Mario Lorenzini più di un anno fa, quando mi hanno mostrato i suoi Super 8. Tre ore scarse di materiale, per lo più già montato in piccoli cortometraggi sulla vita di montagna nella comunità waltzer piemontese. Poco materiale rispetto allo standard dei ciniamatori anni 60, tipici accumulatori seriali. Per me Mario era come Cassavetes, aveva un'abilità straordinaria di raccontare la nevrosi dei corpi maschili e l'esclusione di quelli femminili. Era un regista, non solo un ciniamatore, e per questo volevo rispettare e interpretare la sua idea di cinema. Allora un anno fa sono andata alla festa del suo paese, Priami. Un paese impervio, piuttosto buio, circondato da montagne bellissime, isolato. La festa del paese consiste nell'aprire le proprie case agli altri paesani, offrire da mangiare e da bere, soprattutto da bere, e cantare e ballare insieme. Sono quasi venti giorni che è cominciata la quarantena a Milano e che ci hanno dato la regola che i corpi devono stare un metro di distanza l'uno dall'altro. Ci sono cascata, penso. Quei corpi che ballano vicini mi fanno venire la malinconia e pensare che la promessa che mi ero fatta nell'affrontare il materiale d'archivio di Mario era stata no nostalgia. Non farti fregare dalle belle inquadrature, dai colori della pellicola, dalle facce sorridenti. Ricordati che dietro ci sono i fantasmi. Sembra passata una vita, dalle immagini di Mario, ma anche da anno scorso. Quelle stesse immagini ora mi dicono tutt'altro. Mi dicono che a quelle feste si esagera col vino perché l'isolamento pesa. Che è bello toccarsi. Che Mario, che era operaio, aveva un contratto di lavoro migliore dei miei coetanei suoi colleghi. Questa romanticizzazione improvvisa delle immagini di Mario mi ha molto sorpresa. Non pensavo che per me ci potessero essere degli inediti in cose che avrò visto almeno un milione di volte. Per tutto questo tempo ho pensato a leggere il passato, a criticarlo, a dargli un senso per farlo finire in un corto di venti minuti. Allora mi fermo. Per un momento mi concedo di pensare a quello da cui dovrò tornare quando questo isolamento sarà finito. Come voglio che sia.